Allora, benvenuto all'architetto Frango Sagone, buonasera, è passato bene alle festività natalizie? Bene, bene. Allora, siamo qui, rimbacchiamoci in questo anno 2017, mi pare che non è che sia partito del migliore dei modi, sono tutti i casini che ci sono in giro, se ne accumulano non so quanti, bah, incrociamo le dita, a maggior ragione che si chiama 17, quindi vediamo un po' se si può sfatare questo. Di cosa parliamo stasera, Franco? Stasera vorrei parlare di urbanistica anche perché finalmente… Non è un argomento nuovo, non è un argomento nuovo, è il mio argomento dal resto, io non faccio altro mestiere. Siete, ma la notizia news, proprio prima di andare in onda, hai ricevuto questa triste notizia? Sì, purtroppo ho ricevuto questa triste notizia che, come dire, mi fa sempre ammareggiare nel senso che è morto Nino Caruso, un grande artista con cui molti di noi a Caltagirona hanno avuto un rapporto, un artista che si occupava prevalentemente del materiale ceramico. Assieme a lui abbiamo fatto una bellissima mostra con l'Istituto Stradale d'Arte nella fornace Hoffman, che oggi purtroppo questo luogo magico per Nino Caruso e per tanti altri che sono stati all'interno di questo museo, oggi invece è vandalizzato, oggi è un luogo abbandonato e vi ricordo a chi mi sta ascoltando, questo è un luogo pubblico, non è un luogo dell'architetto Francesco Sagone perché è stato assieme ad altre persone il realizzatore della struttura, l'architetto che ha costruito l'edificio. Un luogo pubblico significa che è un luogo di tutti e quindi l'interesse nei confronti di questo luogo che ogni giorno viene vandalizzato dovrebbe essere l'interesse della comunità, l'indignazione dovrebbe estendersi a tutti noi perché non è possibile che fonti pubblici, denaro pubblico viene poi maltrattato nel vedere questo edificio abbandonato a se stesso. Quindi purtroppo Caropino ci stiamo impoverendo sempre di più in questa città, in quest'Italia perché ultimamente sono morte veramente delle persone eccezionali che io chiamerei giganti dove noi non potremmo che essere formiche, non voglio dire nani, ma certamente non all'altezza di queste persone. Purtroppo dispiace perché Nino Caruse è stato per noi, per molte di noi un amico, un punto di riferimento per quanto riguarda l'arte ceramica e assieme a lui se ne sta, vuol dire, ci abbandona una personalità che aveva un ruolo decisamente importante a livello anche internazionale nel mondo di questo materiale che a noi ci connota come città della ceramica e che invece Nino Caruso non ha fatto altro che rivalutarlo questo mondo della ceramica. Quindi spiace molto di aver sentito proprio che è morto Nino Caruso. Va beh, andiamo avanti. Andiamo avanti perché appunto bisogna andare avanti. Bene, stasera parliamo, e lo spunto lo prendo perché finalmente l'amministrazione comunale di Caltagirone ha, come dire, indicato, ha avviato una direttiva al segretario comunale e all'ufficio tecnico, nonché al dirigente alberghina per la redazione del nuovo piano un ricordatore generale. È un, come dire, per me è un fatto decisamente positivo in quanto in questi mesi, come tu ben sai, l'amministrazione di Ioppolo sta trattando esclusivamente la problematica del bilancio. Non so quando questa problematica sarà portata a buon fine, ma questa città non può vivere solo del problema del bilancio. Io dico anche perché è essenziale, sappiamo il motivo perché è essenziale l'approvazione del bilancio di questi cinque anni. Però è anche vero che un problema che questa città ha è esclusivamente quello di non avere lavoro, è esclusivamente quello di non avere più bellezza, è quello che ormai il senso dall'abbandono lo cogliamo in ogni ancolo della città, abbiamo bisogno di risposte positive, abbiamo bisogno di rilanciare quest'immagine di città. E lo strumento urbanistico, che ovviamente non è un piano economico, ma comunque mette nelle condizioni l'economia di poter svolgere un ruolo, vuoi per i finanziamenti pubblici, vuoi per i finanziamenti privati, vuoi perché ci potrebbe essere anche una ripresa dell'attività edilizia, un'attività che in questo momento è morta, dire che questa amministrazione sta incominciando a pensare al nuovo strumento urbanistico è decisamente positivo. Quindi la notizia è che la nuova amministrazione vuole nuovamente ridiscutere di piano regolatore generale, di revisione, dando nuove direttive. Quindi sono nuove direttive, significa nuovo disegno della città da parte dell'amministrazione, significa che le direttive di buon anno non sono state accantonate e secondo me invece potevano essere un buon punto di partenza per gli argomenti come sono stati trattati, così come è stato messo da parte invece lo schema di massima della sindacatura Pignataro. Bene, mi sta bene queste nuove direttive. Ora quello che è importante è che la velocità con cui si realizzano le direttive, la velocità con cui si approva lo schema di massima, la velocità con cui poi il piano diventa esecutivo e venga mandato all'assessorato. Trovo all'interno dell'indicazione date dall'amministrazione comunale interessanti, alcuni passaggi, soprattutto il passaggio in cui, e di questo noi ne eravamo come dire convinti, che se filosofia all'interno del piano ci deve essere quella del completamento, quindi guardare la realtà per come oggi e completarla perché attualmente è incompleta in alcuni servizi, nell'opera di urbanizzazione primaria e certamente non investire più il territorio agricolo che è stato negli anni precedenti rapinato e comunque dequalificato. E allora c'è un passaggio che dice con la limitazione di ogni forma di edificazione che possa comportare un'ulteriore espansione e piuttosto invece il recupero e la riqualificazione dell'esistente, come di locuzione, parole che hanno un senso quando appunto verranno accompagnate dai fatti, perché noi così come sempre abbiamo sostenuto noi non abbiamo più bisogno di una grande città, noi abbiamo bisogno che questa nostra grande città possa essere invece una città vivibile, una città dotata di adeguati servizi, i servizi devono essere in rapporto effettivamente alle esigenze di questa città, il che significa che se ad esempio i vincoli devono essere posti all'interno della città, devono essere dei vincoli rapportati effettivamente al soddisfacimento del cittadino, nel senso che non ci possiamo permettere di andare a vincolare a aree che poi dovrebbero essere espropriate e che poi questo esproprio, come abbiamo notato, ha avuto un caro e forte prezzo nell'amministrazione precedente in termini di economia, di soldi, quindi un piano solvibile. Ci sono alcuni passaggi che ovviamente sono condivisibili, non solo intanto questo punto che è fondamentale, cioè non andare a prendere altro territorio. Altri passaggi riguardano l'attenzione sul centro storico e chi può non essere d'accordo sulla riqualificazione e sul valore che il centro storico ha. Abbiamo sempre detto da questo studio che il centro storico attualmente, il nostro centro storico ha una caratteristica particolare rispetto agli altri centri storici a tal punto che fa parte del patrimonio dell'umanità, ma non come singolo monumento così come è avvenuto per Militello che fa parte alcuni monumenti del patrimonio dell'umanità e quindi del Val di Noto. La verità è che o cicli o la stessa motica eccetera eccetera, addirittura noi abbiamo tutto il centro storico, quindi è una cosa decisamente più importante da tenere in considerazione. L'altra cosa che un po' mi lascia perpresso, ma probabilmente quando si indicano, quando queste linee guida vengono dette appunto sono parole, ma poi alle parole bisogna arrivare con i fatti, bisogna soppesarle le parole, bisogna vedere il contenuto, bisogna vedere di che cosa appunto si vuole dire. L'azzeramento dei vincoli urbanistici, qua leggo nelle direttive che sono state date all'ufficio tecnico, ora chiaramente l'azzeramento dei vincoli urbanistici per il nuovo piano ricordatore generale non può esserci, perché il vincolo nasce nel momento in cui io debbo prevedere un servizio, semmai un ragionamento è che i nuovi servizi debbono essere sul piano della logica, sul piano del buonsenso, rapportati ai reali bisogni della gente. Negli anni passati c'è stato un eccesso di standard a servizi, allora se lo standard che oggi ci propone la legge, la legge è sempre la stessa addirittura del 1968, i famosi 18 metri quadrati ad abitante, lo standard invece dei piani successivi che abbiamo avuto addirittura sfora quasi a volte il 30%, bene allora questo piano che venga ridimensionato con i servizi adeguati ai 18 metri quadrati, ecco perché dico la filosofia del completamento di quello che abbiamo, del miglioramento di quello che abbiamo, della riqualificazione o della rigenerazione urbana, con l'attenzione chiaramente a fatti importanti della nostra città che sono legati e anche qui c'è la valenza al turismo, il turismo nasce nel momento in cui noi possiamo offrire a chi viene in questa città qualità, bellezza e arte, ecco se questa qualità, bellezza e arte non la sappiamo valorizzare, non la sappiamo vendere, non la sappiamo come dire riconvertirla in fatti positivi, eccetera, diventa un documento, di conseguenza quindi avere attenzionato che il centro storico è il nostro scrigno prezioso per un turismo che ha bisogno secondo me di nutrirsi della qualità, della bellezza, della storia della nostra città va attenzionato, ben venga voglio dire queste linee guida che sono state date per le nuove direttive. La strada però come tu ben sai non è facile, è impervia, è una strada difficoltosa, è una strada che ora ha delle tappe importanti perché nel momento in cui l'amministrazione comunale ha affidato le direttive all'ufficio tecnico, ora l'ufficio tecnico dovrebbe in parte sentire la città, sentire le associazioni di categoria o in generale tutto il mondo praticamente culturale o il mondo dell'economia, dal sindacato all'associazione di categoria, per capire come questa città deve essere vista da qui a 20 anni, perché un piano dura 20 anni, però poi i vincoli decadono ogni 5 anni. Quindi il passaggio successivo sono le direttive che devono essere formulate dall'ufficio tecnico, poi eventualmente ho capito che non ci sono progettisti, perché se ci fosse un mandato a progettisti queste direttive vanno ratificate ai progettisti e il progettista poi dovrà come dire incominciare lo studio della città. Subito dopo l'altro passaggio che debbono essere queste direttive vagliate, studiate, implementate dal Consiglio Comunale, perché il Consiglio Comunale non ratifica le direttive, può aggiungere, può togliere, deve fare quello che deve fare, è organo politico e la politica significa amministrare la città al meglio e quindi con la sensibilità che mi auguro questo Consiglio Comunale possa avere. Subito dopo le direttive debbono essere a mio parere accompagnate da un altro strumento voluto dalla Comunità Europea che è la VAS, la valutazione ambientale strategica. È un momento questo delicatissimo perché se questo non avviene subito poi si ha difficoltà nei passaggi successivi per quanto riguarda l'approazione o l'adozione da parte del Consiglio Comunale. Quindi come vedi i tempi non sono brevi, sono lunghi e allora che cosa occorre? Occorre che le parole si trasformano in fatti, ma si trasformano in un tempo che sia un tempo umano e mi auguro non sia un tempo geologico. Tengo presente che i vincoli sono decaduti nel 2009 perché il piano è stato approvato dalla parte della Regione del 2004, ogni cinque anni decadono, di conseguenza sono quanto sei anni, sette anni che siamo senza strumento urbanistico e chiaramente questo sta creando problemi, soprattutto se vuoi ad esempio avere un finanziamento pubblico e non hai la cornice dentro cui ti puoi muovere per realizzare un servizio. Quindi la notizia è positiva, ora dobbiamo capire come l'amministrazione comunale si muove. Io confido ad essere assessore anche un architetto, se non ricordo male un architetto, l'assessore all'urbanistica e ai lavori pubblici e quindi credo che abbia una maggiore sensibilità in questo senso e quindi possa seguire passo a passo quello che dovrà essere la redazione dello strumento urbanistico. L'altro argomento che volevo affrontare velocemente, quindi questo è un aspetto importante, riguarda le zone artigianali. Infatti ho portato delle immagini. Le zone artigianali è un tema che in questi anni in parte ha appassionato, in parte ha deluso, ma che comunque all'interno ad esempio del piano regolato generale ora deve avere un ruolo fondamentale, perché noi non abbiamo avuto in tutti questi anni una vera area artigianale. Ce l'ha Gran Michele, ce l'ha Vizzini, ce l'ha Scordia, ma noi non l'abbiamo mai avuta. Recentemente però è stato realizzato un progetto esecutivo per un PIP, PIP sta per piano di insediamento produttivo, così come prevede la legge che è la 71 del 78, sempre questa legge famosa, vecchissima, ma che ancora è in vigore, visto che il Parlamento regionale non vuole attualizzarla, ma ancora la vuole lasciare, obsoleta, perché probabilmente pensa ad altro, ma non so che cosa pensa, ma certamente non pensa all'evoluzione che invece la realtà in questi anni ha trasformato il territorio e quindi occorrerebbe una nuova legge urbanistica. Ma comunque è questa la legge, l'articolo 18 della 71 del 78 che ti dice che nel momento in cui c'è da parte di una categoria l'esigenza di avere un'area artigianale, quindi ci vuole la spinta di qualcuno per avere l'area artigianale, tu devi presentare un piano particolareggiato e indicare delle aree. Ecco, all'interno dell'attuale strumento urbanistico in Bicore ci sono delle piccole aree puntuali, ad esempio nel centro storico c'è un'area puntuale che è la D2-1, così si chiamano zona artigianale commerciale che indica l'impresa catena, non so se sei presente. Poi abbiamo un'area che recentemente invece si è realizzata con un finanziamento europeo che si trova incontrata a Mazzone Semini. Se si è realizzata quest'area dove sono presenti circa 33 lotti di circa 600 metri quadri, così prevede l'articolo, il bando e comunque la legge. In quest'area che si trova appunto a destra del quartiere Semini, oggi c'è tutta l'urbanizzazione primaria, ci sono le strade, ci sono i marciapiedi, ecco questa è la planimetria e questa è la zonizzazione. È stata suddivisa in tante aree, ci sono credo 5 aree, un'area riguarda già i capannoni che erano presenti e quelle in viola rappresentano praticamente i lotti. Poi ci sono ovviamente i parcheggi e i servizi di rito che normalmente occorrono per una zona artigianale. Ora chiaramente è un'area un po' marginale, ma talmente marginale che ha secondo me problema dal punto di vista dei collegamenti. Tiene presente che nel quartiere Semini per entrare nel quartiere Semini tu puoi percorrere solo una strada, che è quella delle fontanelle e poi c'è il ponte. Se malagulatamente dovesse accadere quello che noi non desideriamo mai che accadesse, quest'area non so come potrebbe essere isolata. Quindi normalmente un'area artigianale invece dovrebbe avere dei collegamenti viari abbastanza fluenti, cosa che invece quest'area a mio parere non ha. Vero è che c'è probabilmente un collegamento dove c'è la grande rotatoria incontrata a San Bartolomeo, per intenderci, ma ancora non è aperto. Quest'area è importante per gli artigiani, non solo è importante per gli artigiani, ma io dico che a questo punto non c'è altro da offrire, a meno che io sono di questo parere, noi abbiamo un patrimonio edilizio vasto, il Comune ha un patrimonio edilizio vasto, perché non andare eventualmente a attenzionare ad esempio l'autoparco. So che in questo momento l'autoparco è in disuso, è abbandonato, perché probabilmente ci sono grossi problemi legati alle colombe, che grosso problema può essere il problema delle colombe, tant'è che si è svuotato completamente perché nessuno interviene per probabilmente chiudere delle finestre con una rete. Come normalmente si fa. Come normalmente, esatto, a casa nostra noi faremo. E quindi hanno abbandonato questo grande edificio, ma allora trasformiamolo, utilizziamolo in maniera intelligente. Se c'è una richiesta da parte di un artigiano, cerchiamo lì praticamente di dare il posto a un artigiano, che mi sembra anche un'area un po' appartata e anche ben servita. Sull'area invece che si è realizzata, questa del Mazzone, c'è però un problema su quest'area, che infatti è strano come questo problema sia nato. è stata urbanizzata l'area, è stata espropriata l'area, ma che cosa si è espropriato? Si sono espropriate le strade, si sono espropriate praticamente i marciapieti, ma i lotti interni, i 33 lotti che avete visto, non sono stati espropriati. Quindi un artigiano che vuole andare a insediarsi in quest'area deve comprarsi sostanzialmente dal privato, perché ancora è privato, il terreno. Cioè è una cosa secondo me anomala, è una cosa che io non ho fatto un piano, un piano o un pip, ma quando si espropria si espropria anche l'area dove deve nascere il capannone. In questo momento allora i rapporti l'artigiano lo dovrebbe avere col privato. Quindi mi sembra strano questo utilizzo di un finanziamento pubblico di circa 4 miliardi, non stiamo parlando di 400 mila Euro, 3 miliardi o 2 milioni, 2 milioni e 950 mila Euro, sono il lavoro a base d'asta e poi ci sono le somme dell'amministrazione, sono 4 milioni di Euro, una cifra considerevole che non ha tenuto conto però dell'esproprio, delle aree dove dovrebbero sorgere i capannoni. Poi come altre aree artigianali e commerciali l'abbiamo o lungo la strada che portano i scemi, e quindi stiamo parlando della via Buncavillea, là c'è un'area per intenderci dove c'è il ferramenti piccione, sopra, esatto, la planimetria è chiara, è chiara, esattissimo, dove sono state fatte le opere di urbanizzazione al Boschiglioro, alle cooperative, insomma ci sono queste aree un po' come dire, non certo servite bene, posizionate bene queste aree, poi l'altra area che è stata fatta sempre per una zona artigianale si trova a Granieri, che è all'ingresso di Granieri, quindi io mi auguro che nel nuovo strumento, qua siamo a Graniera, questo è l'ingresso di Granieri, c'è quella grande area, ma c'è il campo sportivo, anche quest'altra grande area indica sostanzialmente però la ditta che in questo momento opera a Granieri, credo che si chiamano i fratelli Scalzo, se non ricordo male, quell'area all'uscita per andare a Comiso, no? No, per andare a Mazzarrona. Hai ragione, perché prima viene Mazzarrona e poi viene Comiso. Bene, quindi queste aree sono importanti e quindi mi auguro che nel nuovo strumento urbanistico venga fatta una riconsiderazione delle aree artigianali, perché sono un motore importante della nostra economia. Devo dire anche che ormai c'è anche una nuova filosofia per quanto riguarda queste aree artigianali, che è quella legata più a una zona artigianale, ora si parla di servizio legata alla residenza, c'è una cosa più funzionale probabilmente, quindi se c'è un'attività rumorosa, fortemente rumorosa, ha senso andarla a dislocare a margine in periferia, ma sempre debbono essere servite bene dal punto di vista della viabilità. Ora invece si parla di integrarli con la residenza, ma stiamo parlando di attività artigianali che chiaramente debbono avere dei requisiti di igienico e sanitario, tale da non entrare in conflitto con la residenza. Quindi in questo momento c'è tanto materiale da mettere all'interno del piano recorto generale. E salutare positivamente l'attenzione del sindaco Ioppolo per metterci le mano su queste cose. Speriamo che si apre un grande dibattito ora sulla città, che venga coinvolta tutta la città e che la collettività mostra interesse perché la città non appartiene né a Ioppolo né alla giunta di Ioppolo. La città appartiene a tutti noi e tutti noi dobbiamo avere un ruolo e l'interesse perché questa città possa appunto di nuovo essere rilanciata e rivivere quei momenti felici che in anni passati ha avuto e ha avuto un ruolo determinante per la cultura anche italiana soprattutto. Assolutissimamente sì e siamo fiduciosi che questo possa certamente accadere, mi pare che i segnali ci siano comunque e quindi salutiamole positivamente e ammuttammo. L'unica cosa che io però non sto condividendo ultimamente da parte di chi dovrebbe avere molta più attenzione, ovviamente dovrebbe essere questa attenzione, come dire, un'attenzione collettiva, cioè tutta la città dovrebbe partecipare a questa attenzione perché quando vedo un'opera pubblica come ho detto poc'anzi, c'è un edificio contemporaneo vicino alle porte della città come la fornace Hoffman oppure una piscina che è totalmente ormai abbandonata oppure lo stesso ascensore che non è entrato mai in funzione ma che già incomincia ad essere oggetto di atti di vandalismo, di attenzione. Allora non basta più l'attenzione, cioè la constatazione, cioè io non debbo, io cittadino, tu cittadino, noi cittadini possiamo constatare che effettivamente l'edificio è ammalorato e ha bisogno di attenzione, ma tu amministratore non basta che ne prendi come dire coscienza e quindi constati che la fornace Hoffman ormai è totalmente aperta. Ti faccio notare che tre giorni fa, ho notato, non poteva entrare, le finestre in alto posizionate a 10 metri non esistono più, cioè qualcuno è entrato con una scala e si è portata anche la finestra. Quindi, ma ancora prima un mese fa l'amministrazione ha constatato che già questo stato di degrado c'era e allora che cosa si fa? Io ora mi aspetto che qualcuno faccia qualcosa, intanto che ci sia una sorveglianza. Sono stati quattro anni disastrose. Se fai un elenco, così, a volo d'uccello, su quello che è successo dal 2012 a ieri, guarda è un disastro, è un disastro. Ma peccato. Gioielli veramente che... e ora sono quattrini che bisogna reinvestire. Appunto ti sto dicendo, sono delle opere pubbliche, non sono delle opere pubbliche, riguardano qualcuno, al sindaco, riguardano la città. Non è solo il disastro finanziario dal punto di vista tecnico. come ci troviamo, ma anche dal punto stritturale che significa risorse che nei prossimi anni dovranno essere sottratti a tanti servizi per rimettere in economia tutte queste cose. Ma un disastro. Quindi l'invito che faccio è all'amministrazione comunale che non è e non si deve solo basare sulla constatazione, ma invece deve agire. Come agire? Intanto salvaguardando il bene e quindi cercando di mandare lì chi deve andarci, insomma una sorveglianza adeguata, un posizionamento di telecamere che possono così darci l'idea di chi sono queste persone che stanno distruggendo questo bene pubblico. E va beh, è così la storia. Ci vuole una politica di attenzione e di recupero e di valorizzazione di quello che intanto abbiamo. Non penserei ad altro in questo momento io. Proprio io penso a quello che noi abbiamo. Ecco perché, e finisco, la politica del piano regolatore generale nuovo è una politica che deve guardare l'esistente. Siamo fiduciosi che Gino Ioppolo attenzionerà a tutte queste cose, so che segue certamente costantemente anche gli interventi che vengono fatti anche dall'architetto Franco Sagone. Spesse volte ci siamo trovati a suggerire, a dare delle imbeccate. Speriamo che presto possano cominciare a concretizzarsi perché credo che la città ha bisogno anche di questi segnali di recupero, confidiamo assolutissimamente ma positivamente e fiduciosamente. Grazie all'architetto Franco Sagone, a presto e arrivederci. Bene, chiudiamo questa trasmissione, vi ringrazio la cortesa attenzione, ci rivediamo martedì prossimo alle 21.30 con la Casa dei Caratini stasera. Buon proseguimento, buon fine settimana, alla prossima.